Ringrazio voi perché ci avete accolto e ci avete dato la possibilità di conoscere questo centro per poter dare il nostro piccolo contributo. Io ho conosciuto questo posto, sono entrata nella struttura un paio di mesi fa e devo dire che me ne sono innamorata perché effettivamente voi svolgete un lavoro che è veramente impegnativo e noi abbiamo l'obbligo di dare un piccolo contributo. Mi piaceva anche l'idea come Confesercenti di poter dare una mano, Andrea Painini siamo a venire, noi Presidente Confesercenti, di dare una mano su questo progetto che avete per coinvolgere gli esercenti del territorio che in qualche modo possano dare un supporto e segnalare queste persone che possono avere bisogno comunque di aiuto. Questa è una cosa che mi è piaciuta tantissimo, quindi noi siamo a disposizione sia per il territorio monzese, se dobbiamo sentire altri commercianti. L'assessore Longo che è qua, che ringrazio, se vuoi venire qua, Max, lui ci dà una grossa mano anche per la parte comunque commerciale. E ringrazio anche l'assessore Maffè se vuole venire. L'assessore L'Alessandra se vuole dire due parole su Salarina Gallo. Sì, io... Alessandra, vieni un secondo. Prego, prego, venga, sì, 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 assolutamente. Siamo qua tutti insieme, mi sembra di essere proprio tipo un gruppo di amici. Siamo qua, questa è una cosa che...